Ciao a tutti e ben tornati sul nostro canale! Che fatica! Oggi faremo la sfida delle ruote Ok, cosa vuol dire la sfida delle ruote? Che dobbiamo fare le ruote benissimo, perfette Chi la fa bene vince? Un punto Un punto E vince chi arriva prima? Tre Tre punti, ok? Se più di una arriva a tre punti, fate lo spareggio Il nostro giudice, come sempre, è la maestra Chiara Ok? Lei valuterà chi fa la ruota bene Chi inizia? Vai, mettetevi in fila Via Giada Direi di no Viola Ok, anche se hai morto un po' il piedino per agitare Un punto Un punto No Marty No, ma hai tinta sgalgherata? La ruova lì, eh? Rebecca Ecco No, ma hai tinta di piedi Allora Allora Primo giro Ha preso un punto solo Giada E solo Viola Giada Oh mamma Che braccia tutte piegate Che bruttina Giada lo spiega dove le braccia nella ruota Viola Viola No No Nike venite un pelino più in qua Ok Va bene anche se hai mosso un po' il piedino Un punto Nike Vai Marty No, Marty Devi stare dura come Elsa Non come Olaf Aspetta Aspetta Fermi Spieghiamo questa cosa Che È bello È una cosa Che ha Che ha Molto successo Tra le bimbe Che visto che gli piace molto Frozen Quando loro stanno tutte molli Noi li chiamiamo Olaf Invece loro devono essere come Elsa Delle principesse bellissime Ok Siamo pronte Reby Non si muovo di piedini all'arrivo Niente Allora aspetta Inizia il terzo giro Chi è che ha preso un punto Solo uno Viola E uno Nike Via No 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 Ok Due punti Viola Questa Ehi Le mani erano troppo vicine Noi Che Invece le lontane Questa no Ma Elsa per cortesia Dura in alto Ok Un punto Marty Sì E lei dritterebbe Un braccio in alto Eh Dada La nuova è lunga Io te lo do Questo punto Però non è molto bella Un punto Giada Anche se Questa no Nike riusciamo a fare Questo secondo punto No Sì Marty dai Reby No Ti sei mossa Vai Reby Dura È dura Durissima Brava Questo è un punto Brava Reby Lunga Ok Ok Un punto Giada Quanto sei? Uno Sì Non l'aveva mai fatto Un punto No no Un punto Eri a uno Allora sei a due Ok scusa Mi sto sbagliata io Viola se fai questo Hai vinto Sì ok Ok Finiamo comunque il giro Vai Nike Viola tre punti Oh mamma mia Nike Questa ce l'abbiamo un po' sbagliata Marty Rebeca ma la lasci stare Che sta facendo la sua ruota Oh Questa è una bellina Ok Questo punto però Ce l'hai Brava Marty Due vieni qua Vai Reby Peccato per la fine C'era quasi Ok Brave Questa sfida La vince Viola Salutiamo Ciao a tutti Ci rivediamo Nel prossimo video Ma quanto siete diventate brave Tra quanto mettiamo il prossimo video Quanti like vogliamo 500 Marti sono un po' troppi 500 No sono ancora 200 Va bene dai 200 va bene Va bene Reby Ok No sono ancora Ma non sono ancora Ma non sono ancora